Bella a tutti ragazzi bentornati sul mio canale qui L.I. ed oggi siamo su Minecraft Questo è l'inizio di una nuova serie perché siamo arrivati a 200 iscritti Dopo solamente una settimana dall'inizio del gioco siamo già a 200 iscritti E per ringraziarvi leggendo i vostri commenti ho letto che qualcuno voleva appunto che io iniziassi questa serie Minecraft Vanilla Ebbene eccola qui Io spero che vi piaccia anche se come avete già visto dall'altra serie di Minecraft Floating Island Io non so giocare Quindi facciamo schifo Cioè faccio schifo voi forse molto probabilmente no Mi introduco in questo bioma molto molto bello con gli alberi oscuri molto molto grandi Molto molto sex Perché mi piace stare qui in mezzo agli alberi E lì c'è un bellissimo laghetto con un bellissimo fungo che ci fornirà delle bellissime zuppette Anche se qua vicino però Come ho fatto a cadere nell'acqua Vabbè Qui vicino però c'è una bella pianura Quindi io direi di farci la prima almeno Casa qui E qua già vedo Una cavernicciola Una caverna Direi di farci la prima base qui Proprio qua Senza tanti indugi Perché qui siamo Bel dispiazzati Circondatesi dagli alberi Però Se ci mettiamo qua dovremmo riuscire a difenderci almeno al meglio Va bene Iniziamo subito Con farci le nostre Mollissi E andiamo a mettere la nostra prima crafting table Che utilizzeremo subito per farci degli stick E poi farci una ascia e una spada Perfetto E una chest Qui Fantastico La chest la mettiamo qui accanto E lasciamo tutto quello che non ci serve Andiamo a prendere altro legno Per andare avanti Altro legno Altro giro Altra corsa Questi alberi sono veramente enormi E se non sbaglio sono quelli che si fanno crescere Mettendo quattro sapling Uno accanto all'altro Quindi Disboscheremo E non ricresceranno mai più Lag Avevo distrutto il blocco ed è ricomparso Mio dio Cioè sto giocando in single player e mi lagga Purtroppo oggi mi sono reso conto che ho installato la versione di java sbagliata Io ho windows 64 bit e ho installato la 32 E ho un casino nel pc Quindi prossimamente cercherò di risolvere il problema Per poi riportarvi Portarvi I gameplay fatti bene Che è ciò che vi meritate Cioè ragazzi 200 iscritti Veramente 200 iscritti Io ancora non ci credo Quando ho aperto il canale ho detto Ma ti pare Arriverò a circa 20 iscritti E poi mi arrendo E 20 saranno già tanti E invece E invece Voi mi state supportando sempre di più Con i like su tutti i video Visualizzazioni su visualizzazioni Ho visto ieri le statics Le statistiche dei video E ho visto che Gli iscritti guardano il 300% in più dei video Dei non iscritti E quindi Wow Wow Solamente questo posso dire Wow Ok Trasformiamo di nuovo questo E ora io direi Di iniziare a farci la base Tipo Pac Faremo un buchetto Qui Lo so È uno spreco di legno Però considerate che anche Quando ce ne andremo da questo posto O inizieremo a fare una casa più grande Io questo posto lo lascio così E Sarà l'inizio Forse fra Tantissimo tempo Ritornerò qui E ritroverò La mia La mia prima base E Nostalgia Ma non pensiamoci ora Ora finiamo di fare questo buco Dove andremo a vivere Per I prossimi giorni Finché non avremo qualcosa di Più Perché dovremmo iniziare a farci la casa Ma per farci la casa Dobbiamo fare tanto legno Questo significa che io dovrò giocare molto Off camera Quindi questa sarà una serie Settimanale Sì Avrete un solo video a settimana Ecco L'ho già sbagliato Di questa serie A meno che non ci sia qualche speciale Ne farò uno in più Ma Penso che sarà sempre uno Una settimana Penso che basti e avanzi Metti legno Metti legno Oh mio dio Facciamo la porta No è vero No è vero Andiamo a chiudere qua sopra Ho fatto tipo Casucola bassissima Proprio giusta giusta Per passarci noi E nessun altro Buff Buio Ora facciamo anche la porta Però vabbè Facciamo un buchetto Qui almeno Non facciamo Fred Flaystone Ecco E uno qua Perfetto Ora Facciamoci una porta Io non ho mai capito Perché tre porte Io ne voglio una Perché me ne fai tre Oh Che urto Così adesso mi devo tenere tre Vabbè Tiamoci queste tre porte Un altro buco qui E voilà Che un po' di luce c'è Lasciamo questo legno qua dentro Questo e questo qua dentro Il semino qua dentro E magari facciamoci un piccone Sì Un piccone Penso che sia la cosa più adatta E andiamo a prenderci della pietra Carbone Cioè Inizia subito E troviamo il carbone Che cosa fantastica Guarda quanto ce n'è Che bello Dammi il carbone Dammi il carbone Su Mamma mia Quest'acqua ci rallenta Un casino No Esci 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 Ok Allora Direi che questo carbone Ce lo teniamo finché non ho un piccione di pietra E non posso togliere l'acqua da lì Altro carbone O sbaglio Eh sì mi sbaglio Ok Andiamo a farci No Andiamo a cercare un altro posto dove scavare Un'altra caverna Non è vero Si sta facendo già notte Ma che è sta cosa Cioè la notte ci perseguita su Minecraft Va bene Corri E siamo già per morire di fame Cioè già la fame inizia a scendere Allora entriamo Facciamoci Il picconazzo Sì Però se tu non prendi La La Gli stick Il picconazzo non te lo fai Non lo sapevi Il picconazzo non lo fai Cioè Gli stick ti servono Ho fatto il nostro Puglio Chiudiamo la porta E facciamo passare la notte Bene ragazzi Adesso che il giorno è ritornato Torniamo di nuovo Alla ricerca di una miniera decente Ma Mentre era notte Ho detto Vabbè ma È la prima notte in questo posto Non ci saranno tanti mob Infatti era così Sono andato a prendere queste bellissime cose Che prenderò dopo per fare la lana rossa E tingere qualche pecora Tanto per divertirmi E Qui vicino è esploso un creeper Ecco perché mi mancano Tre cuori e mezzo Ecco Il creeper è esploso qui Facendo questa voragine I creeper mi odiano Mi seguono in tutto Ovunque io vada C'è un creeper che cerca di uccidermi Va bene Significa che dovrò morire Prima o poi per mano di un creeper Cosa che non vorrei Ma A quanto pare È il mio destino Ora Non saprei cosa fare Devo andare alla ricerca della pietra Ma la pietra sta sotto l'acqua E l'acqua mi rallenta E se mi rallento Muoio E sto per morire Di fame Quindi io prenderei Dov'è casa mia Mi sono perso Casa Ragazzi mi sono perso Sono sicuro che era qui Eccola Ok Non mi sono perso Ero lì accanto Io direi di prendere Di farci una bella Ho E iniziare a Farmare Perché tra poco Io inizierò a morire di fame Non mi piace morire di fame Durante la notte ho fatto anche le quattro torce Con l'unico pezzo di carbone Che avevo raccolto Perché non mi piaceva stare al buio Ad aspettare il giorno No questa è l'accetta Questa la ho Ora Andiamo là sotto Perché è qua sotto Perché è più vicino E c'è l'acqua Subito Via sto cosa Ok Allora Io direi di fare Così Pof Pof Togliti erba Pof Pof Basta fare pop Tanto abbiamo soltanto 5 semini Quindi Irrigati Irrigati Perché se è vero quello che dice Surreal Power Quando è irrigato crescete prima Quindi irrigati 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 Senti Ciao Ok Ora Ehm Beh Tadadadè Dobbiamo per forza andare a prendere la pietra Che è qui sotto Ma Qui sotto Capite? Si Benissimo Se avete capito Lasciate un like Se non avete capito Lasciate un like E vi spiegherò il perché Però dovete lasciare anche il commento Perché altrimenti non so chi me lo chiede Se me lo chiedete Lasciate un like in qualunque caso Che quello non fa mai male Prendo il carbone Il sì Il carbone Certo La pietra per farci La Primissima Ehm Fornace Con cui cucineremo Quella bella vacca Che c'era laggiù Ora appena l'acqua se ne va Io inizierò a fare un tunnel Verso No Non se ne vuole andare Deve finire prima o poi Ah Vedi che finisci Haha Ecco Ma ora io sono Ok no Non sono il problem Mettiamo qui un Puff Ora dovrebbe tornare Sì Torna Ok Allora Oh perfetto E possiamo passare di qua Sopra le nostre piantagioni Perché Sì Le piantagioni vanno maltrattate Se no non crescono Ok Io andrei a morire Vabbè no Aspettiamo di morire realmente Da Per natura E Facciamoci La nostra Prima No Mi dimentico i cocomandi La nostra prima fornace Ecco qua Facciamone due va E Fornace qui Andiamo a prendere il carbone No Andiamo a uccidere la nostra vacca Perché possiamo cuocere anche Semplicemente Legno Quindi vacca Vieni qui Pollo Mancato il pollo Ma perché Sto giocando con F3 attivo Perché Cioè io ho giocato Finora con F3 Che demente Vabbè ragazzi Voi non fate caso Ai miei errori Di stupidità Almeno avete visto A quanti fps Riesco a registrare Per quale motivo Sto sclerando Ma Va bene Oh un uovo Mi ha lasciato Ehm Sì andiamo a ucciderli Vieni qui Muori Grazie Perché li sciotto Cioè È una spada di legno Vieni qui Ah Pensavo non avesse troppato nulla Ok abbiamo fatto 3 polli 3 polli E 3 Carne di vacca Quindi Andiamo a cuocerla Ora non mi ricordo Se sotto ci posso mettere La legna normale O la legna lavorata Non me lo ricordo mai Legna lavorata O legna normale Allora intanto Il pollo qui Qui Su si accende Le lascio due Perché ho fischia Le lascio due Lascio E la Carne E così Può andare Andiamo a vedere La nostra bella Piantagione Ah Non crescerà mai Ma proprio mai Abbiamo un altro Semmino da piantare E ne ho tolto uno Perché sono cretino Per il semplice motivo Che io sono un cretino Grazie Andiamo su Bene ragazzi Io direi che per questo video è tutto Noi ci rivediamo In un prossimo video La prossima settimana Con questa serie Io spero che vi sia piaciuto Se è così Lasciate un like Un commento E condividete Ricordatevi che Dobbiamo arrivare a 500 iscritti E il prossimo traguardo Arrivate a 500 iscritti Avrete L'inizio dei vlog E probabilmente la facecam Nei giochi La facecam forse no Però i vlog sicuramente Io vi ringrazio tantissimo Per la visione Ciao